Allora continuiamo a parlare di scienza e di ricerca. Lo facciamo con il professor Andrea Lenzi, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La parola al professor Lenzi. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo splendido forum per avermi invitato a essere parte del gruppo dell'introduzione. Qui io rappresento il Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e contestualmente rappresento l'Air City Institute, questo think tank che si occupa della salute nelle città nel senso più complessivo possibile, non solamente medico ma da tutti i punti di vista sociale, epidemiologico e anche psicologico e anche dal punto di vista dell'amministrazione delle città stesse come abbiamo sentito poc'anzi da Roberto Pella. Quello che io voglio segnalare in questo momento del tutto particolare della nostra sistema paese, se mi consentite anche del nostro sistema globale, è che tutto quello su cui ragionavamo fino all'inizio di quest'anno e negli ultimi anni in relazione proprio alla salute della nostra civiltà, in cui il problema che ci ponevamo soprattutto era il miglioramento della qualità di vita dei soggetti che fortunatamente sopravvivono con una speranza di vita più lunga rispetto al passato. Tutto quello che ragionavamo quindi sulle cosiddette malattie non comunicabili, non trasmissibili che hanno posto fortemente il problema sia per la sanità pubblica ma anche per tutte le altre scienze che prima ho illustrato di cercare di migliorare la salute dei cittadini anche avendo un'attenzione alla loro qualità di vita sia per l'individuo sia per la società stessa, quindi considerando la salute un bene comune che in qualche maniera dovevamo tutelare a tutti i costi anche di fronte alla qualità, lo risottolineo, della vita nell'ultima parte della vita di ognuno di noi, quindi cercare di far star bene e non solo di allungare la vita, si è rivelato in maniera drammatica se vogliamo come un target fondamentale per la nostra sanità e per la nostra civiltà. La presenza di questa devastante malattia trasmissibile che ha messo di fronte tutti quanti a un qualche cosa di inatteso ma è stato vedendolo dal punto di vista dello sperimentatore quali sono un test naturale ma devastante come ho detto poc'anzi, ha fatto sì che chi sono stati più colpiti, chi sono state le persone che hanno subito maggiormente l'impatto di questa patologia? Le persone anziane con malattie non comunicabili e quindi a partire dal diabete che ovviamente a me è molto caro in quanto sono endocrinologo ma anche tutte le conseguenze del diabete, le patologie cardiovascolari, l'obesità che spesso l'accompagna, le patologie di riduzione della capacità di movimento, tutto questo è stato colpito maggiormente. Quindi abbiamo avuto una dimostrazione purtroppo, ripeto ancora una volta, in attesa devastante e non voluta che tutto quello su cui ragionavamo in precedenza era non vero ma verissimo. quello, il grande insegnamento che purtroppo mamma natura ci ha messo davanti e che dobbiamo trarre da questa esperienza è che il mondo globale che rapidissimamente ha diffuso questa patologia. La salute urbana che ancora una volta si dimostra essere il core fondamentale del problema perché dove c'è massima aggregazione le malattie trasmissibili colpiscono con la massima della violenza, insomma i grandi centri abitati o comunque le aggregazioni di cittadini si sono dimostrate essere il tema fondamentale, come già sapevamo, della diffusione di un virus come sconosciuto all'organismo e al suo sistema immunitario, come il coronavirus della cosiddetta covid-19 o se preferite SARS-CoV-2. Bene, questo ci ha detto che avere il diabete e avere le patologie conseguenti e le cosiddette comorbidità del diabete significa essere in una situazione di pericolosità maggiore ancora del possibile soggetto che non ha queste patologie. Quindi, ripeto ancora una volta per andare alla conclusione, un bene comune, la salute, aggregazioni urbane maggiormente a rischio, attenzione a un miglioramento della qualità della salute e dei sistemi di controllo nelle città in particolari, malattie non trasmissibili a partire dal diabete, dall'obesità e delle altre patologie ad esso correlate, su cui dobbiamo inserire la massima attenzione della nostra sanità per arrivare ad una sanità migliore e ad una qualità di vita migliore per tutti quanti noi. Grazie infinite al professor Lenzi.